In avanti per Amsic, a sinistra, l'inserimento di Dossena che effettua il traversone, testa! E forse è gol, no! Resta in campo il pallone, incredibile! Il Napoli protesta, Edinson Cavani si abbraccia ed è gol! Ed è gol, va verso il centro! Ed è gol, va verso il centro! Edinson Cavani, il Matador, si abbraccia con i compagni! Il Napoli è in vantaggio! Azione veramente confusa, il colpo di testa, preciso, puntuale del Matador! Al sesto minuto di gioco qui allo stadio di Firenze, ancora un cartellino timbrato dal Matador! Che gol, amici! L'anticipo di testa straordinario sul traversone da sinistra, il Napoli è in vantaggio! Napoli in vantaggio, il pallone ha toccato la traversa, poi è tornato in campo! Farà discutere questa azione, però sembra decisamente, al di là della linea, vantaggio Napoli! Gancia bene, qualcuno in mezzo, attenzione Cavani, non ci arriva la palla a terra per Amsic! Tira, tira il desto del Matador! Si confia la rete! Si confia la rete! Si confia la rete! Il Matador! Il Matador Cavani! Il Matador Cavani ha fatto brillare la sua spada! L'apertura a sinistra dove si catapulta Lavezzi, il controllo dell'Argentino, in due su Lavezzi, il cross del Pocio! Cavani! Rete! Cavani! Il Napoli è in vantaggio! Il controppiede il Napoli, Cavani punta l'area di rigore, buona la finta! Cavani! Sinistro! Cavani! 3-1! Ha finto il Napoli! Scoperto il Cesena, ancora Lavezzi che allunga, Cavani lì vicino, c'è anche Amsic, Lavezzi, Lavezzi! Si apre il centro, tocca per Cavani! Cavani! È un gol splendido! Cavani! Lavezzi a sinistra, Lavezzi mette il pallone in mezzo, Cavani! La gancia! Cavani! Un'arma alle dalle del Napoli! Edison Cavani! In quell'occasione il difensore deve essere sicuro al 100% di colpire la palla, altrimenti rimane in posizione davanti Prova adesso a servire Cavani che è in posizione regolare, Cavani! Il Napoli ricomincia da Edison Cavani, 1-0 al diciannovesimo Cavani sta per entrare in area di rigore, affida ancora Lavezzi il triangolo, colpo sotto Cavani cerca l'appoggio, tira Cavani! Cavani! Che gol di Cavani! Tutti pazzi per Cavani al San Paolo! Mamma mia! Va a piazzarsi Sosa, è scattato Lavezzi, lo vede Sosa Lavezzi, pallone di ritorno per Sosa che allunga la falcata, l'ingresso in area di Sosa, il cross per Cavani! Rete! Cavani! 9 gol come tu! Cavani, dritto per dritto Cavani, salta il primo avversario, ancora Cavani! Al limite, Cavani! Incredibile al San Paolo! Il Napoli gol! Ancora Napoli che prova con Maggio, il traversone verso Cavani! 1-0! Di vista da Juventus, arriva altra persona di Dossiana, Cavani! Operanzi in posizione regolare, parte opposta Edinson! Cavani! Il Matador tripletta 3-0! Questa è una serata che scriverà nel suo diario e forse anche quando la scriverà nella sua biografia! Napoli in attacco con Lavezzi, Cavani! Cavani fa festa al Napoli con il 14esimo gol di Cavani che non si ferma più! Era già da un po' che il Bari non c'era più in campo, c'erano troppe distanze! Lavezzi, Lavezzi dentro per Cavani, l'aggancio di Cavani, dribbling! Cavani! Il nuovo re del San Paolo! Edinson Cavani porta il vantaggio al Napoli e fa il suo record di gol in Italia, 15! E quando gli lasciano questi spazi a Cavani e a Lavezzi sono ducidiali, c'è niente da fare! Cavani contro Curci, Cavani! L'implacabile Cavani, 2-0 per il Napoli! Gargano, c'è Amsic, Amsic in era di rigore, Amsic la mette in mezzo, Cavani! Un fenomeno, Cavani! Ma qui è stato altruista, si poteva tirare e gliel'ha appoggiato a Cavani che è di sinistro, il ruolo per il tappi finale e qui è il terzo gol. Destra, Amsic lo vede, maggio nel corridoio, in mezzo Cavani, il cross mezzo, Cavani! L'uomo dei sogni, Edison Cavani, fa 18 in campionato! Grandissima azione, bellissima la ripartenza, bel filtrante di Amsic, tutto perfetto, con Cavani che attacca il primo palo! Tisca Bergonzi, ricorsa breve, parte Cavani, rete! Anzi no, pallone ancora, rete! Ma il pallone era già entrato, il pallone era già entrato! Cavani fa una fesseria nel lamentarsi sul pallone perché se il pallone non è entrato, insomma, combina un bel guaio. Parla per l'Avezzi. In testa per Cannavaro, posizione regolare di Cannavaro, che balla a cross! Il robocchio di Cavani, 2-0 per il Napoli! Cavani contro Agassi, 3, 26, Cavani, rete! Il Napoli è in vantaggio ed è a 3 punti dal Milan! Gira per Amsic, il controllo dello Slovacco, il Lappallonito Mer, Cavani posizione regolare, Cavani, 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 rete, rete! Cavani fa esplodere il San Paolo e guagliato Voiac, il record storico del Napoli in Serie A! Arriva il pallone nell'area di rigore, deviazione sul secondo palo, Maggio la rimette per Cavani! Cavani contro Muro, prova a staccare Lucarelli che ci arriva, Mascara ci arriva per Cavani che è in posizione regolare, Cavani in solo! Cavani col pallonetto, Cavani a 6! Cavani, la rincorsa, Cavani spezza il suo cuore e segna subito contro il suo passato, non esulta, 1-0 per il Napoli al secondo minuto! Regione! I locali tifosi, lo scarico è per Adosseno e �rosi in mezzo è per Cavani, Cavani! per poi trovare gli esterni da soli vediamo qua il valetto di questo è molto divertente Cavani che si ritrova e prova con Amaggio la palla che passa colpo di testa tentato da Cannavaro poi il tiro di Santana Cavani Cavani e il pareggio dal Napoli il primo modo lo trova il sistema Under Maggi è sulla posizione e Under non lo dimenticare per Cavani la finalità la finalità la finalità dopo la sconfitta di domenica sera travolge il Genoa troppo brutto per essere vero per 6 a 1 torna il gol Edinson Cavani ottava rete stagionale al dodicesimo Cavani fa invece doppietta con il suo nono gol in campionato ancora con una distrattissima difesa del Genoa scavetto di Cavani l'apertura per il Cavani ma è sulla posizione Cavani si attenta la zona tiro Cavani un rete un rete fantastico e poi non esulta ed è bellissimo questo applauso dell'epubblica del Valvera è bellissimo complimenti a Cavani ma complimenti al gente di Palermo Cavani il palazzo di Napoli al 26esimo ancora Cavani sta costruendo la sua classifica il biglietto da visita terzo minuto possesso quando vede viola Cavani si scatena Napoli cresce la Fiorentina ad inizio ripresa ma nel momento migliore 55esimo Cavani l'assist ancora una volta è di Marek Amsic altra idea parta sorpresa Cavani in rete Cavani il Napoli torna in partita l'anno di Amsic per il gira per Zemali è libero di Sena Zemali la vettura Cavani Cavani sinistro al danno in rete Cavani al quarantesimo il pari del Napoli il Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.